Una interessante domenica di basket attende i tifosi delle formazioni ofantine. L'Allianz Udas, dopo il turno di riposo, torna in campo nella quinta giornata del campionato di Sagheci Silver con la sfida alla palla di Leo alle 18 contro il Visano Mambieste, attualmente capolista del torneo. I uomini di coach dei Santis sono decisi a fare risultato pieno contro la formazione bianca-azzura di Luigi Marinelli che ha preparato con estrema cura a questa gara, ben sapendo delle difficoltà. Nel gruppo si è allenato anche Mike Mallat, risolto il problema relativo al transfer, l'americano potrebbe esordire dal primo minuto. L'Olimpica Basket cerca delle conferme importanti dopo la sorprendente e meritata vittoria casalinga contro la Juvetrani. I gialloblu di Giovanni Cesmundo chiedono punti pesanti alla trasferta contro il Valentino Castellaneta che a rispetto dell'anno precedente si trova nelle zone basse della classifica. Il coach locale spera di sfruttare il turno tra le Muramiche per dare una scossa ad un ambiente finora deluso. Per i gialloblu, Ofantini invece si continua a lavorare con umiltà per togliersi qualche soddisfazione e quella contro la Juvetrani di sei giorni fa è stata davvero la goccia che dà il là per una stagione che si prospetta sicuramente ricca ancora di grandi sorprese ed emozioni. Per i gialloblu, Ofantini xilie